Liberti il migliore in campo e Maltesers vincono 3-2 contro i Succhini a Pera Nel finale però avete rischiato Mattia, le tue parate sono risultate decisive Abbiamo rischiato troppo, abbiamo iniziato sottovalutandoli Pensavamo potessero far meno di quello che hanno fatto Invece hanno dimostrato di essere molto forti e impegnativi per noi Sente, siete partiti che stavate perdendo 1-0 all'inizio con il bel gol di Sinisi Poi vi siete riscattati, forza dei Maltesers è proprio questo appunto di non mollare mai Non molliamo mai, ci chiediamo sempre fino alla fine Abbiamo bisogno, sono i nostri stimoli, abbiamo bisogno di stimoli e li ritroviamo quando perdiamo Senti, Cantiello come mai non è potuto venire quest'oggi? Bah, mi sa che era anche stavolta in viaggio 3 e 1 a scuola Stavo ovunque Ancora sta cercando il vero padre? Va bene, grazie Mattia Ciao